La formazione del Bologna Football Club 1909 Con il numero 28, Lukasz Skorupski Con il numero 5, Adama Sumauro Con il numero 17, Geri Medel Con il numero 6, Artur Teatre Con il numero 7, Riccardo Orsolini Con il numero 8, Nikolas Dominguez Con il numero 32, Mattias Svaffer Con il numero 3, Aaron Ichi Con il numero 21, il capitano Roberto Soriano Con il numero 9, Marco Arnautovic Con il numero 99, Musa Barro Con il numero 9, Musa Barro Con il capitano, il signor Sisa Bialic Con il capitano, il numero 22 parti 23 padini, 2 PX, 35 Dikes, 4 polifatti 15 PX, 14 PX, 10 Sansone Con il numero 8, Musa Barro Con il numero 9, Musa Barro Con il numero 9, Musa Barro Con il numero 9, Musa Barro 14 PX, 15 PX, 15 PX, 15 PX, 15 PX, 21 Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.